sia lode e gloria a te signore mio dio ricordo a tutti i fratelli che questa sera andrà in onda la seconda parte della crociata di preghiera del combattimento contro i poteri dell'afflizione prima della crociata ci sarà una introduzione sull'argomento da parte di uno dei più grandi esorcisti che abbiamo avuto don gabriele amort vi prego di intervenire questa sera e di pregare dalle vostre case con tutta la fede possibile in modo da poter distruggere i demoni che si annidano in noi nel nome potente e glorioso di gesù amen